Stefano Sala ed Ascia, sono tornati insieme? La foto che conferma il ritorno di fiamma Stefano Sala ed Asa delle Bianchina sembrano aver ritrovato l'amore. . Dopo la burrascosa fine della loro relazione i due modelli sono tornati ufficialmente insieme. A confermare il gossip che da diversi giorni fa il giro del web, è stato proprio l'ex concorrente del grande fratello Vip. . In una Instagram Stories, infatti, i due compaiono insieme, è la prima volta dopo la bufera sentimentale che li aveva coinvolti. . Stefano Sala ed Ascia delle Bianchina sono tornati insieme. . Gli indizi. . Dopo le polemiche seguite al termine della loro relazione, entrambi sono stati ospiti di Barbara D'Urso dove hanno raccontato quanto accaduto e il proprio stato d'animo. . Se Stefano si diceva sicuro di non voler proseguire la storia con D'Ascia, quest'ultima ha manifestato il suo stato di malessere per la situazione. . Nei giorni scorsi, però, sul web erano circolate indiscrezioni secondo le quale ci sarebbe stato un ritorno di fiamma tra Stefano Sala ed Ascia delle Bianchina. . I due, infatti, avrebbero partecipato ad una serata insieme. . A testimoniarlo le Instagram Stories di un noto imprenditore lombardo. . Stefano ed Ascia non compaiono nello stesso video ma in due differenti ma è evidente che siano nello stesso locale contemporaneamente. . Il modello dopo l'amicizia tanto discussa con Bendetta Mazza è stato pizzicato mentre si scambiava un bacio con Martina Andy, anche lei protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip. . . La meteorina, però, ha categoricamente smentito le voci mentre il modello ha preferito non esprimere il proprio pensiero sulla vicenda. . Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane e se, come sperano i fan, con Dasha ci sia stato un ritorno di fiamma. . Il ritorno di fiamma tra Stefano ed Ascia. . La conferma del modello. . 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 È stato proprio Stefano Sala a postare un video dove inquadra prima la bella Dasha, seduta di fronte a lui, e poi reprende se stesso. . . . . . . . . Si trovano insieme in montagna, pronti a trascorrere un po' di tempo lontano dal gossip e dalle telecamere per ritrovare la loro intimità. Una notizia, che come detto in precedenza, era nell'aria ormai da tempo. I due sono riusciti a mettersi alle spalle la crisi vissuta in concomitanza della partecipazione del modello al grande fratello Vip. Staremo a vedere se il ritrovato amore riuscirà a consolidare una delle storie più chiacchierate degli ultimi mesi.